Volevo farvi vedere i rossettini della Avon in color trend Questi rossettini sono usciti a agosto se non mi ricordo male Offerta lancia erano a 2,95 Adesso li potete trovare tra i 3 e i 4 euro circa Allora, volevo farvi vedere quelli che ho io Così potete capire come sono i colori Io ho il Doll Pink Che è questo rosa molto molto flash Fucsia flash Non so nemmeno io definirlo E vi faccio vedere lo swatch Che è questo qui Speriamo che si veda Molto particolare come colore Poi ho il Violet Free Day Questo è più effetto Questo è più matte E vi faccio lo swatch anche di questo È molto più chiaro rispetto alla confezione Quindi è questo qua, il secondo Molto freddo diciamo come tonalità Poi ho il Coco Kiss Che è questo qui Questo qui è un marrone con dei riflessi bronzo Adesso vi faccio vedere lo swatch Lo mettiamo qua Questo è molto carino Secondo me se si ha bronzati Ha dei riflessi bronzo Vedete E poi ho il Deluxe Che questo è scuro Anche questo Ed è questo qua È un marrone mattone Molto carino anche questo Non so se avete notato Io prediligo i colori scuri E poi volevo farvi vedere Anche sempre nella colon trend I luci da labbra Che sono questi qua Io ho questi quattro qua Questi qua Anche questi Mi sembra che fossero in offerta Lancio 2,95 Adesso dovrebbe essere sui 4 euro 3 euro 4 euro Siamo giù di lì Io ho nello specifico Lo stand up pink Che è questo rosa Adesso vi faccio lo swatch Lo mettiamo da questa parte Che è un bel rosa Devo dire Questi gloss Mi piacciono molto Perché non appiccicano i labbra Durano abbastanza E sono molto rubrenti Che è questo qua Questo rosa qua Speriamo che si veda Poi ho qualcosa di un po' più scuro Questo qui Che è il Lovely Dovely Lovely No scusate Lovely Dovely Insomma Lovely Dovely È molto Molto scuro questo Però molto molto bello Anche questo Scusate se dico sempre Molto 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 Nei video Ci farò l'abitudine Prima o poi Chiuditi È questo qua Il secondo C'è il gatto che mi guarda Come se fossi matta Poi ho Il mio preferito Che è questo qua Il Watermelon Questo qua Mi piace tantissimo È un colore molto particolare Non è né rosa Né albicocca Né pesca È troppo particolare Come Come Luci da labbra Come colore Vi faccio vedere Anche qua lo swatch Sono molto coprenti Colore pieno Vedete È molto particolare Come colore È un Rosa pesca Con dei riflessi Sull'oro Non so Non so spiegarvelo È proprio Molto molto carino Non so se riuscite a vederlo Comunque Gli ho recensiti Questi qua Anche sul mio blog Insieme a Cristina Penso il paillette In blog Si chiama Se vi va E poi ho preso Il Sunset Che è questo qui Che è un arancione Pesca arancione E vi faccio Uno swatch qua Eccolo qua Speriamo che si veda Che è questo qua L'ultimo qua Vedete che è aranciato Colore pesca Molto Molto bello Il mio preferito È Watermelon Senza dubbio Ve li faccio vedere Di nuovo Tutti insieme Questi qua Sono I luci da labbra E questi qua Sono I rossetti Così a me Non riuscite a capire Perché dal catalogo È molto molto Sfalsato Il colore Anzi non si capisce proprio E quindi A me non li potete vedere Potete anche capire Cosa prendere Cosa vi piace E cosa no Io vi saluto Un piccolo video Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Ciao Ciao